Ma che ce l'hai con me amico? Eh? Ce l'hai con me amico? No Kamikaze Eh scusa ragazzo, l'ho trovato qua a Rocca L'ho visto da lontano che stava venendo con la Gip Si lo so Non posso lanciare con me amico UAB UAB Attento dietro Kamik Eccolo Megadro Eccolo Megadro Eccolo Megadro Eccolo Megadro Eccolo 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 Pussi Pussi Eh a domanda ha fatto a me Pussi Pussi L'obiettivo bravo non durerà ancora a lungo Pussi 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 Il sensore cinetico trasmette Ecco Pussi 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 Il Pussi Confero Il Pussi Il Pussi Il Pussi L'interno Il certificatore pianifico ha appiazzato una carica, via! Il uomo a terra! Non si vede, non si vede! Obiettivo Asmar nei guai! Mandatela a qualcuno! Due bussi! Cazzo, l'obiettivo Asmar non durerà ancora! Abbiamo perso l'obiettivo! Qui lupo 2, abbiamo perso i due obiettivi! Ritirata! Non trovo bussi! Chiara trancato una salvezza per a chiara! Chiaramente la salvezza per a chiara! Questa es dakona! Questa è un'esercizio! Questa esinterna di in tilliù erano i stiletti! Questa è un'esercizio! Oma sara! Questa è una squadra! Questa è un'esercizio! Questa è un'esercizio! SONTATO A CERRA! Danno masterlando l'obiettivo bravo. Intervenite! EDIZIO HORE 12! CUERTO CICILO! Cum la muta la guerra! Non è così! CUERTO DOORTO C'è un pechino! Qualcuno daiquilo è il figlio di troia! CUSSINO! Eccolo! Carica nemica, dobbiamo disinnescarla, subito! Il nemico ha affettato la carica! Via! Eccolo! He's using HP! Yeah, no, I know. He's in kasutay, he's a fucking cheater. We know who he is. He's a dirty fucking mess. We know who he is. We team kill him all day long, dude. They fight while they fight, when they fight they fight it. Bravo è perso, ripeto, bravo è perso, qui lupo 2, gli obiettivi sono perduti, rientrate alla prossima base. Sì, eccolo, tutti i miei di la base, i miei, tira di merda! Oh sì. Oh sì. Ok, bravo il suo battaglio, ma non mi ha perso, non mi ha perso, non mi ha perso, non mi ha perso, non mi ha perso. Sessore cinetico lanciato! Eliminate quei bastardi! Sessore cinetico! Sì, uomo a terra! Sì, sì, sì. Sì, uomo a terra! Sì, sono stati che i bravi, non mi ha perso! Ha ha ha, 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 ha. bello 5 minuti . 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 Ho delle munizioni. Non lo trovo più Pussy, mi è scappato Pussy, non lo so dove sta, non lo so dove sta, un'ora che lo cerca non lo vedo, andiamo a far vedere. Porca troia, senza Cusi non mi diverto, manco lo vedo, manco vedo morire. Carica disinnescata, ripeto, carica disinnescata. Stanno dietro nella casa rossa, mecca non si può vedere. È quasi fatta, ora dobbiamo solo tenerci strette le nostre posizioni e colpirli con tutto quel che abbiamo. Eh no, perché lo ammazzavo, però non mi va più a vedere. Ecco, munizioni. Tieni che sono munizioni. Ho delle munizioni. Ho usato sta roba per calmare il dolore. Non lo riesco a trovare. E' un'altra, portiamoli. Andiamo a ricaricare! Trolli nella barca. Sta giocando perché sta già nel 1909. Oh, nella nave. Cecchino! Una testa e una tenistra. Libera! Eh, c'è una squadra, ma come faccio? Ah, faccio io, faccio io. Il sensore cinetico trasmette! Appassate i bersagli! Uno a terra! Eh, qui si. Dove? Qui si. Ah, ora, qua, arrivano l'altro qua. No, è andato via. No, è andato via così. Buuuu. Ecco, munizioni. L'ho trovato, finalmente. L'ho visto prima, però. C'è un G4 e lo va bene. Non lo fate appoggiare. C'è un G4 che è andato via, però. La carica è disinnescata. Non c'è un G4 che è andato via, però. Il sensore cinetico ha lanciato! È un ferito! Ah, eccolo, è tornato tu, sì. Che bello. È tornato. Eh, cattolo. Oh, sì. C'è un G4 che è andato. Sì, 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 sì.